grazie c'è una grandissima carità di guida a te c'è noi c'eravamo sul centro di prenotazione dell'asle un lavoro da 2 milioni come form forse più o meno come formule sociale e usci dalla gara regionale gli abbiamo detto scusa facciamo insieme ci riesci 2 milioni a noi diciamo no me lo devo dire e non c'è lavoro da lasciare allora io ho chiamato Massimo e Massimo è un'altra mazza siccome lì è una gara a 4-8 con le loro posizioni e non è Massimo è un sacco di cose che sto facendo è grande su Ostia pure grazie a lui anche se lui non direttamente però grazie a lui non c'è è un sacco di cose che ha messo 500 mila euro ma l'ha ripresi? a giugno ha ripreso tutto ma l'ha ripreso ha ripreso 300 mila euro ma l'ha ripresi aspettate fa è stato un sacco di cose che la stava un sacco di giugno e quindi e quindi però se tu i piedi non vado a comprare oppure è possibile che gli sparticci che altamona ma che sparticci? o il Torello sparticci? ha detto, è così anzi, fa la nostra piatta al Torello gli consente al Torello gli consente al lavoro che gli appare se è così si apre io non so non si caccia certo grazie grazie